Il 2021 della pandemia marchigiana si sta chiudendo con numeri inquietanti, anzi con numeri mai visti. Oggi le marche fanno i conti con un 29 dicembre che registra 1.707 nuovi contagi da Covid-19. Mai così tanti in un solo giorno di una pandemia che non sta vivendo l'ora più buia di questo biegno, ma che dice come la quarta ondata si amplifichi di violenza. Basti pensare che in soli due casi si erano superati i mille contagi e in un paio di giorni le cifre sono già raddoppiate, nonché quadruplicate rispetto a una settimana fa. Ad essere positivo oggi è il 18% dei tamponi, quasi un tampone su cinque in pratica rivela Covid-19. Decisiva la variante Omicron che si avvicina al centinaio di casi accertati. Ancona è la provincia più colpita con 560 casi che arrivano a mille se uniti alla provincia di Fermo. Meno pressante il contagio a Pesaro Urbino con 198 casi. Intanto l'incidenza da contagio schizza a 423 casi ogni 100.000 abitanti che somigliano a una cifra molto vicina alla zona arancione. In tutto questo si registrano 7 ricoveri in più di ieri con 261 pazienti di cui 43 in terapia intensiva, cioè il 17% dell'occupazione dei posti letto. Pesante anche il fardello dei decessi, altri 7, 5 uomini e 2 donne di età compresa fra 74 e 89 anni. Ai numeri del contagio la regione risponde con i numeri del potenziamento della campagna vaccinale. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, a margine del consiglio regionale di oggi, ha annunciato un piano straordinario per riuscire a somministrare 444.000 terze dosi entro il 31 gennaio con le prenotazioni slittate a febbraio-marzo che verranno ricontattate nel primo mese dell'anno tramite un sms per potersi vaccinare in tempi più celeri. Regione che seda anche gli intasamenti ai punti vaccinali verificatisi nell'ultima settimana. Da oggi agli hub si accede solo su prenotazione. I non prenotati alla seconda o terza dose dovranno ripiegare la procedura su camper vaccinali o in farmacia. Si può invece sempre essere vaccinati senza prenotazione se si tratta di prima dose.